Buonasera e benvenuti a questo nuovo appuntamento con Malacoda. Apriamo rapidamente con una notizia di cronaca che ci giunge da Firenze dopo il ritrovamento del 15enne senza memoria dipendente da internet della settimana scorsa la polizia ferroviaria ha rintracciato venerdì scorso un uomo di 48 anni che volontariamente si era allontanato dalla sua abitazione di Palermo con l'intenzione di sparire a rintracciarlo la polizia ferroviaria nella stazione di Santa Maria Novella. Il 17esimo ritrovamento nella stazione Fiorentina in questo 2015 l'uomo palermitano è stato individuato in stazione in stato confusionale poliziotti ha spiegato di trovarsi in un periodo particolare della sua vita e di aver visto nella fuga l'unica soluzione possibile. I poliziotti si sono limitati ad ascoltare l'uomo, ad ascoltare lo sfogo del 48enne lo hanno poi accompagnato all'ospedale di Santa Maria Nuova per verificare le sue condizioni di salute dopo averlo rasserenato ed aiutato a ragionare l'hanno messo in contatto con la moglie e con i figli. Il sabato mattina con un volo da Palermo il figlio maggiore l'ha raggiunto a Firenze e l'ha potuto quindi riabbracciare. Per le altre notizie di cronaca e le ultime ovviamente dal capologo toscano io vi rimando al nostro spazio informativo come sempre al Tg Iride vado invece a salutare e a presentarvi i miei ospiti che sono quest'oggi il sindaco di Londa Leandro Murras, buonasera e benvenuto. Tommaso Cuoretti, percorso comune per Londa, buonasera e benvenuto. Allora Londa perché? Perché ovviamente siamo all'indomani o quasi perché è avvenuto venerdì dei sigilli che sono stati tolti dal lago di Londa. Avete fatto anche un incontro proprio in comune, proprio venerdì pomeriggio, insomma qual è la sua posizione attualmente sindaco? Sono abbastanza soddisfatto di come sono andate le cose perché l'esame è stato chiaro e veloce, quindi io non mi aspettavo neanche che entro un mese, anzi meno di un mese dal sequestro si potesse arrivare al dissequestro. Però sono contento perché i capi d'accusa che mi vedevano in qualche modo indagato erano inquinamento, anzi smaltimento illegale di rifiuti speciali e reiterazione del reato. Poi erano avere in qualche modo inquinata acqua potabile e anche avere in qualche modo oltreggiato, tra virgolette, le bellezze naturali. Ecco, tutti questi quattro stati di capi d'accusa il tribunale di riesame di Firenze più o meno li ha smontati perché appunto... E da qui il dissequestro ovviamente dell'allago. Per quanto riguarda invece gli avvisi di garanzia che sono arrivati a lei e a due tecnici dell'Unione? Per quanto riguarda gli avvisi di garanzia ancora sono in essere, quindi il GIP, il gruppo, insomma il giudice deve ancora decidere e intanto continuerà a fare le indagini. Questo chiaramente è un tassello importante anche nelle indagini, però comunque farà le sue indagini e una volta concluse dovrà o dar luogo a procedere o archiviare il caso. In attesa, ancora in attesa. Così come per esempio il pubblico ministero potrebbe anche rispetto al tribunale del riesame potrebbe fare ricorso. Ovviamente ricorso. E ancora su questo non abbiamo notizie in merito. Voi avete dei dubbi ancora? Nel senso che avete ancora delle cose su cui chiedete chiarezza? Allora, prima di tutto siamo felici perché è avvenuto il dissequestro del lago e questo penso sia la cosa più importante. Per quanto riguarda i dubbi può darsi, potremmo avere anche qualche dubbio, ma in questo momento preferiamo pensare al bene di Londra. Sicuramente siamo felici per il dissequestro. Rimane il problema che a tutt'oggi il lago deve essere ancora ripulito, per cui c'è da affrontare nuovamente, credo, tutto lì da capo. Però l'obiettivo rimane quello di ripulire il lago. Per quanto riguarda i dubbi, credo ne sia stato parlato ampiamente. Ci affidiamo alla magistratura. Siamo convinti che la magistratura appurerà se ci sono delle responsabilità. Il mio augurio, soprattutto personale per Alejandro, è che ne esca assolutamente pulito. E già credo che con questa prima istanza di esame e con il dissequestro i capi di imputazione più pesanti sono decaduti. Di questo ne sono contento, per lui personalmente. E soprattutto sono contento per Londra. Il problema è ora avvicinarsi a una nuova stagione estiva con un lago che probabilmente non sarà ancora fruibile. No, ancora molto probabilmente no. Io al momento del dissequestro ho fatto mettere al verbale che il lago quando è stato sequestrato era svasato, era vuoto. E che quando l'hanno dissequestrato ce l'hanno lasciato pieno di acqua. Però quindi dando dimostrazione che appunto loro una volta che ce l'hanno dissequestrato ci dovevano anche in qualche modo provvedere allo svaso del lago. Però chiaramente, giustamente, i coloro che erano lì, la polizia giudiziaria ha detto che noi siamo tenuti a fare solamente il dissequestro e non a fare altro. Non possiamo fare altre operazioni. Giustamente loro stanno facendo i suoi mestieri, quindi più di quello non potevano fare. Però chiaramente ho segnalato questa cosa perché, vedete, se non c'era intercorso il seguestro, noi il giorno stesso in cui arrivò il provvedimento, stavamo fissando con una discarica, una discarica di Terrenova Bracciolini, con il direttore, l'amministratore delegato e con il direttore della discarica, per portare lì questi materiali, non come rifiuti, vada bene, ma come terra di riempimento. E quindi praticamente noi avevamo fatto tutte le nostre indagini e avevamo trovato alla fine la soluzione dove portare questo materiale. Quindi bastava firmare l'accordo e far partire la ditta che aveva già in qualche modo... Così purtroppo non è stato. Come vi ponete, insomma, come lista, come percorso comune, che cosa vi aspettate? Ci aspettiamo che, come detto, che la magistratura faccia il suo corso. Nel riguardo di Londra ci poniamo come ci siamo sempre posti, cioè con un occhio critico ma propositivi per il bene del Paese. L'occhio critico dove guarda in questo caso? L'occhio critico in questo momento guarda al problema che tuttora rimane, cioè perché è successo tutto questo, cioè ci sarà un motivo per cui è successo tutto questo, cioè come diceva poco anzi il sindaco, ci sembra assurdo in questo momento che sia stato fatto un sequestro e che a di sequestro avvenuto, diciamo, il corpo del reato non sia stato reso nelle condizioni in cui era precedentemente. È come se mi sequestrano una macchina e me la rendano senza ruote. Ecco, questo è il principio. Per cui comunque dal nostro punto di vista la criticità c'è, perché da qualche parte ci deve essere stato un errore, perché sono contento per Aleandro che è uscito pulito, ma qualcuno deve aver sbagliato da qualche parte. Se non è stata la parte pulita sarà stata la parte giudiziaria. Io questo non è dato a sapersi, però il problema è che noi come percorso comune vogliamo assolutamente che il lago venga svuotato, per cui ci attiveremo, se l'amministrazione ce ne darà l'opportunità, collaborando per vedere di trovare una soluzione e rendere ai Londesi il lago come era e come ce lo ricordiamo tutti. Perché purtroppo, anche se è avvenuto il dissequestro, è di nuovo pieno, in una parte del lago ci sono non più di 10 cm di acqua, purtroppo, tra l'altro dalla riunione che c'è stato venerdì, in cui il sindaco ha letto praticamente il verbale del tribunale sul dissequestro, però, se non sbaglio, è emerso anche il fatto, la possibilità che riempire il lago sia stato peggio che tenerlo vuoto, perché riempiendosi si è smosso nuovamente i sedimenti, per cui ci potrebbe stata, conteriamente a quella si pensa, ulteriore sversamento. Una cosa un po' assurda. Un po' controverso, insomma, capirci qualcosa già è difficile. Così ce le complicano ancora di più? Sì, chiaramente ci hanno complicato le cose, questo sì, questo indiscutibilmente. Diceva giustamente Tommaso che la dicitura esatta è paradossalmente una nuova chiusura dello scarico di fondo provoca un nuovo annacquamento dei sedimenti, con tutti i conseguenti problemi di deflusso. Quindi, praticamente, anche il tribunale del reesame, molto probabilmente, dice forse era il caso di non farlo, la chiusura dello scarico di fondo. Semplicemente, magari, ecco, impedire che venissero portati via per, ovviamente, poter fare le indagini, però, visto che l'acqua lì sopra non ci passava più, non ci sarà il rischio di ulteriore deflusso. Però, insomma, queste sono cose molto, ovviamente, delicate. Però, ecco, detto questo, secondo me, vabbè, chiaramente l'obiettivo nostro prioritario è quello di far svuotare il lago indiscutibilmente. Ora, purtroppo, non avendolo svasato e essendo ancora in corso l'indagine per il reato comunque di smaltimento illegale di rifiuti speciali e anche la sua reiterazione, non si troverà, e questo l'ha spiegato anche il tecnico, c'era lì la sera all'assemblea, non si troverà nell'arco di 500 km, diceva, c'è un tecnico che dirà e darà il via, diciamo, a una nuova svuotatura del lago, proprio per questo motivo qui, insomma, perché dice, chi è che si prende la responsabilità finché non è finito l'iter giudiziario di poter dare il via, anche dal punto di vista tecnico. Tecnico a una nuova, insomma, le cose sono un po' delicate, insomma, ovviamente, da tecnico abbastanza. Nell'incontro di venerdì scorso, insomma, dalla popolazione, che cosa è emerso, Coretti? Dalla popolazione è emerso, cioè, a mio avviso, sono emersi pareri contrastanti, perché da una parte la grande gioia per aver avuto il lago e quindi la possibilità di poter proseguire i lavori, dall'altro sono rimaste delle criticità o comunque su come si è sviluppata tutta questa vicenda, insomma, che comunque ha portato l'onda alle ribalte della cronaca con titoli di giornali piuttosto infamanti e che sono concorde con il sindaco che ha intitolato la riunione di venerdì l'onda non è il lago dei veleni, ma questo noi anche in Consiglio Comunale l'abbiamo ribadito, che non volevamo credere che l'onda fosse il lago dei veleni e questo ci fa molto piacere perché l'onda è la vita del paese e non è giusto che venga infangato il suo nome con cose non veritieri. Ecco, questo. Ecco, alla luce di tutto questo, non so, avete valutato eventualmente un insede legale la possibilità di richiedere danni o piuttosto avete anche valutato il perché sia nato tutto questo? Abbiamo valutato il perché sia nato tutto questo perché è abbastanza semplice nella sua individuazione nel senso che qualcuno ci aveva detto che appunto nel lago c'erano i veleni e il fatto che si continuasse a sversare nel fiume sottostante i veleni era motivo del sequestro. Noi abbiamo sempre detto che i veleni lì non c'erano perché le analisi stesse lo dimostravano perché 21 campioni, 19 non c'erano niente, due solo una piccola quantità ma proprio risoria di superamento della tabella A con questi sedimenti non erano appunto considerati comunque rifiuti speciali, locivi ma erano considerati terra, roccia e scava da poter portare in qualsiasi posto cioè per fare fondazione statale e così via quindi non erano veleni. Qui, insomma, voglio dire nella motivazione si parla addirittura mentre la fuoriuscita di acqua mista e sabbia a ghiaia per l'apertura dello schermo di fondo è conseguenza prevista dalle stesse linee ARPAT del 2009. Detti sedimenti andranno poi a posizionarsi secondo la normale dinamica fluviale. Il documento del laser numero 11 che iscruterebbe la pulizia dell'invaso della tecna e lo svuotamento dell'invaso da basso indicato nella notazione del PG del 18-12-2004 risale al 1988 ed è, da ritenersi, superato dalle linee guida dell'ARPAT del 2009 quindi, cioè, praticamente è stato individuato diciamo, uno strumento per prendere quella superazione per prendere quella, diciamo, decisione a detta del Tribunale del Riesame superato da un'altra norma. Voi siete in una situazione molto delicata cioè nel senso, comunque, da opposizione in qualche modo uno potrebbe non dico fare le pulci però se non altro dire che, insomma, se le cose si sono complicate in un momento complicato per la vita dall'altro, ovviamente per il bene del Paese si guarda avanti. Allora, so che devo rispondere a questa domanda ovviamente sto glissando sulla domanda perché preferisco concentrarmi su quello che è il bene del Paese io l'unica cosa che posso dire e qui rispondo anche a una cosa detta venerdì da Leandro riguardo rispondo personalmente perché la domanda su come mai è stata aperta con quella modalità del lago l'ho fatta io in Consiglio Comunale non me ne vergogno perché a nostro avviso è stata fatta in modo errato semplicemente io non ho controllato le linee guida ARPAT io mi sono attenuto al progetto dell'Unione dei Comuni Valdarne e Valdisieve cioè il progetto io l'ho portato quindi voi dite comunque sia che controllandolo il lago è stato aperto con modalità di forme rispetto a quello che era indicato nel progetto a quanto dice il Tribunale del Riesame no perché il Sindaco ha spiegato che si può aprire anche in cosiddetta morbida cioè con non presenza di piena e quindi la mia domanda fatta in Consiglio Comunale partiva da un presupposto sbagliato non ho problemi ad ammetterlo solamente che io mi sono attenuto a quello che c'era scritto sul progetto dell'Unione dei Comuni che ve lo vado a leggere lo scrivente ente quale stazione appaltante si occuperà delle operazioni di svaso totale raccordo il Comune di Londra quale ente gestore dell'invaso secondo le specifiche del foglio di indizioni tra le operazioni saranno compiute in coda di pena dal prossimo evento meteorologico che interesserà il reticolo idraulico del Comune di Londra io mi sono attenuto al progetto semplicemente ma a prescindere da questo e spero che con questo si concludano le polemiche quello che mi preme è ripulire il lago di Londra spero che da qui si possa mettere un punto e ripartire a lavorare per fare il bene del paese cosa che come gruppo penso lo potrà confermare le altre abbiamo sempre cercato di fare sicuramente siamo stati un'opposizione più propositiva che oppositiva è chiaro che in alcune frangenti quando le cose non tornano per il rispetto delle persone che ci hanno eletto dobbiamo fare il nostro lavoro e quindi se c'è necessità di fare una critica la dobbiamo fare ovviamente se ne chiede conto a chi insomma quegli atti li ha fatti io ho 30 secondi però a questo punto l'avvocato del diavolo quando rientriamo dalla nostra pausa lo faccio io quest'oggi do la linea al nostro spazio informativo ci vediamo tra poco più di 5 minuti grazie